Allora, il PIC e l'efficienza energetica, come state lavorando su questo fronte? Beh, ci siamo rimboccati le maniche, tutti quanti sanno che abbiamo una scadenza il 5 di dicembre, quindi il nostro approccio è sul mercato dei grandi energivori. Noi preferiamo privilegiare quelle grandi realtà e quindi fare progetti di efficientamento per quelle realtà per cui si sostiene un forte investimento, preferiamo andare quindi a chi ha fabbriche e ci andiamo con la capacità di un'offerta a 360 gradi, quindi dalla diagnosi alla capacità di fare progetti di finanziamento e alla capacità soprattutto di fare i lavori, di installare delle tecnologie che possono veramente portare vantaggi agli imprenditori e alle multinazionali. Spesso l'efficienza energetica è associata però anche a alti costi, come fate a convincere il cliente o comunque a conquistare quote di mercato in questo contesto? Beh, è lì che si gioca tutta la sfida. Io ho un'esperienza recente, una grande azienda di un imprenditore al quale abbiamo presentato dopo un sopralluogo, dopo tre mesi di un attento lavoro di analisi, siamo andati a presentare l'intero progetto di efficientamento che prevedeva anche la fornitura delle due commodity e in questo caso lì bisogna essere rapidi, chiari ed efficaci e fare capire realmente il vantaggio e poi condividere ovviamente i rischi. Gli imprenditori vogliono sapere questo e dobbiamo tenere in considerazione che 70% oggi dell'imprenditoria, dell'ossatura economico-finanziare italiana è fatta da imprenditori. Condividere i rischi in un mercato come quello magari italiano in cui spesso il contesto normativo di finanziamento non è sempre chiaro o stabile come semplice o complesso? Noi guardiamo con piacere l'intervento del Ministero dello Sviluppo Economico che oggi vuole rivedere il meccanismo dei certificati bianchi, sono importanti, vanno regolamentati, va fatto un po' di pulizia, ci sono troppe ESCO sul mercato e c'è troppa gente che ha approcciato gli imprenditori con progetti raffazzonati. Arriviamo tutti noi adesso, siamo bravi, sappiamo fare le cose ma dobbiamo essere ancora più efficaci. È vero che la sfida futura è di riuscire a fare i progetti al medio-lungo termine senza, e questa è la capacità di pochi, senza far conto dei certificati bianchi. Tra Utility e ESCO quindi c'è più concorrenza secondo lei o ci possono essere delle sinergie? Assolutamente delle sinergie, bisogna fare delle partnership, partnership territoriali, bisogna fare capire, o si approcciano i clienti medio-piccoli-grandi con dei progetti e delle iniziative standard, vado a installarti, a ricambiarti il parco illuminotecnico, ti metto dei led, oppure vado a fare dei progetti di efficientamento, ma oggi le Utility devono tenersi stretti i clienti, la concorrenza è molto guerrita, non ci sono margini sulle commodity, l'efficientamento può essere una grande porta d'ingresso e di fidelizzazione. Non tutte le ESCO però sono uguali? Assolutamente no, c'è ESCO-ESCO, noi siamo un grande gruppo che è anche una ESCO e quindi abbiamo le spalle molto larghe e diamo la garanzia di progetti a 360 gradi. Gli obiettivi fissati da Bruxelles al 2020, secondo lei siamo sulla buona strada o potremmo rimanere indietro? No, secondo me siamo sulla buona strada, adesso occorre premere l'acceleratore perché forse rispetto ad altri, noi siamo un gruppo svizzero presente in tanti paesi europei, quindi al PIC ha un overview magari privilegiata rispetto ad altri e devo dire che l'Italia sul fronte dell'efficientamento di quello che stiamo facendo è sicuramente più avanti di tanti altri paesi.